Buongiorno e buon lunedì e bentornati a un nuovo appuntamento con Power Coffee. Facciamo un po' una pausa rispetto agli ultimi argomenti trattati in cui parlavo spesso di RPG, soprattutto di RPG Free. Oggi vorrei fare un riepilogo di quanto abbiamo a disposizione nella documentazione per i BMI. Una sorta di mappa di tutto ciò che esiste per imparare e avere supporto sulla programmazione, lo sviluppo e il sistema operativo i BMI. Il punto di partenza centrale sicuramente è l'home page del Knowledge Center di IBM, che è riportato in questo link, da cui si accede a tutta la documentazione. In particolare questi sono i link diretti per le release di sistema operativo, l'ultima, la 7.4 e le altre release più recenti della versione 7. Knowledge Center si presenta con questo aspetto nella sua home page, per la versione 7.4 per esempio, ha una serie di pannelli con i link delle informazioni più rilevanti, per esempio nel Getting Started ho a disposizione il link per accedere alle informazioni di base del sistema, il link per scaricare tutti i file PDF della documentazione, i manuali, è assolutamente importante poter accedere online alla documentazione ma tenere a portata di mano almeno quei manuali più importanti come possono essere l'RPG Reference, l'SQL Reference, per averli proprio sempre a disposizione in qualsiasi situazione. Un link per tutto il mondo del DB2 e nella parte centrale nei Common Tasks ho a disposizione i Finder, quindi un metodo facile per trovare le API, i comandi CL, nonché i reference più importanti, quello del DB2, dell'SQL e dell'RPG. Facilmente dal sottotitolo c'è il Change Version or Product, è possibile modificare velocemente la release di riferimento della documentazione o accedere al sommario completo degli argomenti. In alto a destra troviamo la casella di ricerca, dove viene ricercato per default nel prodotto che si è correntemente visualizzato oppure spuntando la ricerca in tutti i prodotti è possibile estendere in maniera più estesa il proprio criterio di ricerca. Questo è un esempio del sommario completo della documentazione diviso per macro argomenti e all'interno i link per i PDF e i sottocapitoli. È sempre a disposizione su tutte le pagine l'icona per stampare l'argomento, ovviamente con le funzioni del browser è possibile non stampare la sua carta ma per esempio salvare in PDF. C'è anche un pulsante esporte in PDF ma che attualmente è ancora in versione beta e non funziona benissimo in tutte le occasioni. Quando si esegue una ricerca nel Knowledge Center vengono aperti risultati di default nell'ambito Documentation ma si può switchare sugli ambiti del sito IBM Developer, sulle Technical Notes oppure sul sito Redbooks. Ovviamente i risultati di tutti questi ambiti sono filtrati in base alla stringa di ricerca digitata. Le altre due sezioni dell'home page forniscono link rapidi a Fixed Central, quindi il posto dove si può scaricare tutti gli aggiornamenti dei prodotti IBM, al sito IBM iDeveloper ricco di informazioni tecniche, il sito IBM iCommunity, RPGCaffè, una pagina assolutamente da tenere sempre sott'occhio perché riporta articoli tecnici relativi a RPG con le ultimissime novità. Nonché per ultimo, l'ultimo link è il supporto per aprire e gestire i casi di assistenza. Invece di telefonare al numero verde di IBM è anche molto comodo usufruire della gestione online per le richieste di assistenza sia hardware sia software. Nella sezione More Information posso accedere all'home page dei Redbooks e a due blog assolutamente importanti da seguire, YouAndIblog e ICanblog. Per comodità vi ho riassunto tutti i Finder che ci sono a disposizione nel Cronoge Center. Di sicuro i più usati sono il Finder per i comandi CL e per le api di sistema operativo, ma non c'è anche il Finder per il database, per i codici SRC dell'EPL, SQL Message e molti altri. Se si ha necessità di consultare la documentazione delle release più datate, ho riportato i link anche per la 6.1, 5.4 e 5.3. Prima della 5.3 online non si trova ufficialmente più nessuna documentazione. Se si ha bisogno di documentazione relativo all'hardware, c'è tutta la sezione dedicata al Power, l'ultimissima versione Power 9, Power 8 e poi Power 7. Non può mancare un'home page dedicata al prodotto per sviluppare sui BMI, Rational Developer 4i. L'RDI Hub nella sua home page presenta le ultime novità riportate in primo piano, nella sezione centrale il link per articoli o video o tutorial per imparare a utilizzare RDI, e nella sezione Products ho il riferimento al forum, alla pagina per il download del prodotto e anche alla pagina per il download degli aggiornamenti. Ma non dimentichiamo che, seppur è comodo utilizzare il Chronology Center del proprio browser, se sviluppo con RDI, ed è assolutamente imprescindibile utilizzare questo strumento oramai, ho a disposizione una guida in linea molto potente, mentre sto digitando il codice sorgente, mi posiziono sul nome di una funzione, di un codice operativo, di un qualsiasi elemento di sintassi dell'SQL, premo F1 e viene aperta direttamente la pagina del reference, dell'RPG in questo caso, relativo alla funzione da cui si è premuto F1. È assolutamente una comodità enorme poter sfruttare questa guida, anche perché poi ho la possibilità di restringere l'ambito di ricerca, non a tutta la guida, ma per esempio a un sottinsieme, posso creare un mio ambito personalizzato con solo il sottinsieme dell'RPG, in modo da restringere ulteriormente i criteri di ricerca adottati. Seconda comodità della guida in linea, i segnalibri, quindi posso salvare alcune pagine nell'elenco dei miei segnalibri e poi cliccare sul pulsante in basso a sinistra per visualizzare tutti i segnalibri salvate. Utilizzando Access Client Solution nel pulsante Information Center oppure dal menu guida, sempre Information Center, accedo al Knowledge Center di Access Client Solution. Altri link utili relativi ai BMI sono di sicuro l'IBMI Technical Resource Roadmap, che è una sorta di percorso guidato per chi soprattutto si approccia inizialmente ai BMI, ma di sicuro contiene numerose informazioni utili a chiunque lavora con questo sistema operativo. E l'home page di IBM Access dove posso andare a vedere tutta la documentazione relativa ai prodotti della famiglia IBMI Access. E per concludere ho cercato di proporvi un elenco sicuramente non esaustivo, infatti ce ne sono moltissimi di blog e siti che riportano articoli, video tutorial, esempi di codice relativi a RPG, SQL, al mondo i BMI in genere, e prima di tutti per la nostra comunità italiana sicuramente un punto di riferimento è il blog di FAC400, ma anche gli altri blog, ovviamente tutti in lingua inglese, i BMI Update di sicuro, IT Jungle e il sito rpgpgm.com sono fonte di innumerevoli spunti tecnici, ma non dimentichiamo anche i git di Scott Forst, che ci regala periodicamente degli interessanti suggerimenti per utilizzare SQL al meglio. Spero quindi di avervi dato una mappa di riferimento utile per raccogliere e trovare le informazioni su IBMI e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!